Assessore, formato il direttivo si può cominciare a lavorare? Sì, è un momento importantissimo per la nostra città, storico per questo periodo perché nasce ufficialmente la consulta giovanile di Favara. Nasce dopo una vacazio durata diversi anni, uno strumento consultivo importante che collaborerà con l'amministrazione comunale, tutto e per tutto per cercare di favorire percorsi di benessere. Insieme vogliamo avere un sogno per la nostra città. Sei stata appena eletta presidente alla consulta comunale giovanile, intanto le sensazioni? Innanzitutto grande emozione perché comunque non me l'aspettavo, tra l'altro comunque c'è stata una bella maggioranza di voti e quindi sono emozionata per quello. E poi grande senso di responsabilità, sono onorata di essere stata eletta, voglio comunque ringraziare tutti quelli che hanno posto fiducia in me e spero di meritarmela questa fiducia. Vice Presidentessa della consulta è un incarico di responsabilità? Assolutamente, anche se è solamente rappresentativo perché comunque l'organo principale la forma la consulta stessa. Avrò un bel incarico, spero di portarlo al termine nel migliore dei modi con Anna Elisa Groh, la Presidentessa, e con il segretario. Spero che comunque possa essere all'altezza di questo incarico perché comunque è una cosa molto importante. Con quale spirito si accinge a ricoprire questo importante incarico? Beh, è uno spirito naturalmente di voglia, voglia di fare, voglia di fare qualcosa di buono come sempre, come abbiamo sempre detto tramite volontariato, dato che sono Presidente della Protezione Civile e Operatore di Sicurezza, voglia di fare qualcosa di buono per il nostro paese. Io come segretario sarò al fianco della Presidente e della Vice Presidente, ma ribadisco di tutte le associazioni presenti dei giovani ogni giorno per lavorare al meglio e portare avanti il tutto.